Cronaca ha perseguita due amiche con lettere anonime, minacce e proiettili, arrestato un 59enne. Il caso costretta a vivere in una cantina fatiscente senza bagni e cucina, nei guai figli e genero. Femminicidio esposto in tribunale ai 97 volti delle vittime, tra loro ce l'orena Paolini, uccise in casa a Dortona. Cultura, la fratellanza artigiana celebra opere e carisma del poeta dialettale Walter Cavuti. Eccoci, buonasera a tutti voi, bentrovati con la seconda edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. Un uomo di 59 anni di penne è stato arrestato e messo agli omiciliari con l'accusa di atti persecutori, minaccia aggravata e detenzione illegale di munizionamento di armi da guerra. Le indagini sono partite a gennaio scorso, quando una donna ha riferito di aver ricevuto una lettera anonima redatta con un normografo, proprio per evitare che la calligrafia potesse essere riconoscibile. Una lettera contenente minacce di morte rivolte anche a suoi familiari. Dentro la busta anche un proiettile da guerra. A ottobre poi l'episodio si è ripetuto, ma ai danni di un'amica della prima destinataria. La lettera anonima era dello stesso tenore, stesse minacce, stessi caratteri stilizzati, stesso proiettile. Analisi dei tabulati, visione dei sistemi di videosorveglianza e servizi di osservazione e pedinamento hanno consentito ai carabinieri di penne di incastrare l'autore di questi gesti. Si è scoperto che già dal 2021 il 59enne aveva tormentato le due donne con l'invio di numerosissimi mazzi di fiori sul posto di lavoro, bigliettini amorosi indesiderati, appostamenti sia sui luoghi di lavoro sia vicino casa, chiamate e messaggi molesti. Quando i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione in casa dell'arrestato hanno trovato altri proiettili da guerra uguali a quelli spediti alle due donne, altre munizioni illegalmente detenute e soprattutto il famoso normografo utilizzato per scrivere quelle lettere anonime. L'uomo di 59 anni è stato messo agli arresti domiciliari con l'applicazione della misura del braccialetto elettronico. E ancora la cronaca, una donna di 48 anni in provincia di Pescara è stata costretta dalla figlia e dal genero a vivere, nonostante fosse casa sua, in una cantina faticente. Vediamo i dettagli. Ad aprile scorso una donna di 48 anni ha accettato di ospitare in casa sua la figlia 26enne e il coniuge di 31 anni, nonostante avessero una casa a Roma, ma per aver vicino il nipotino. Dopo le primissime settimane di convivenza tutto cambia. Inizia una serie di insulti, vessazioni, minacce, violenze fisiche, rivoltele dalla figlia e dal genero, e che costringono la donna a trasferirsi a vivere nella faticente cantina di casa sua, dove senza servizi igienici e senza cucina era obbligata a dormire su un divano vecchio e sporco in compagnia dei suoi tre cani. Solo grazie alla solidarietà di qualche amica, la donna qualche volta riusciva a farsi una doccia. Stremata dalle angherie di figlia e genero, la 48enne ha trovato la forza di denunciare tutto e sono scattate le indagini dei carabinieri della compagnia di penne, che non hanno lasciato adito a dubbi circa le gravi responsabilità dei due. Da qui il decreto di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi alla persona offesa. La 48enne è tornata così a vivere nella propria abitazione in maniera dignitosa. Sul conto della figlia e del genero, oltre alla misura restrittiva, è stata aperta un'inchiesta penale. Devono rispondere di maltrattamenti in famiglia. E ancora la cronaca. La Guardia di Finanza di Chieti ha identificato una donna ortonese di 56 anni che, spacciandosi per consulente finanziario, ha raccolto oltre 160 mila euro promettendo investimenti altamente redditizi all'estero. Ci dice tutto. Ferruccio, benvenuti. Aveva raccolto oltre 160 mila euro promettendo investimenti molto redditizi all'estero, fino al 2000%. In realtà, tradendo la fiducia degli investitori, trasferiva il denaro attraverso il circuito Money Transfer mediante numerose rimesse verso il Senegal, senza mai superare la soglia di segnalazione obbligatoria prevista dalla norma antiriciclaggio di 999 euro. Tecnica di frazionamento denominata Smurfing è finalizzata ad aggirare i blocchi automatici degli operatori Money Transfer. Il comando provinciale di Chieti della Guardia di Finanza, dopo un'accurata attività info-investigativa, ha identificato la donna ortonese di 56 anni, dedita all'abusiva attività finanziaria che si spacciava per consulente. In particolare, i finanzieri della tenenza di Ortona, coordinati dal tenente Giancarlo Passeri, sono risaliti ad oltre 230 operazioni di trasferimento di denaro dal 2015 al 2030, per oltre 160.000 euro. Le fiamme gialle hanno inoltre rivelato che la sedicente consulente finanziaria percepiva indebitamente da 4 anni il reddito di cittadinanza, avendo fornito dati falsi all'Inps e sottraendo di fatto alle casse dello Stato oltre 18.000 euro. Segnalata la Procura della Repubblica teatina, rischia una condanna penale per i reati di esercizio abusivo dell'attività finanziaria, autoriciclaggio e lecita percezione del reddito di cittadinanza, e una sanzione amministrativa che la ragioneria territoriale dello Stato potrebbe combinare fino a 6 milioni e mezzo di euro. E si è concluso dopo diverse ore l'intervento di recupero di quattro segugi maremani che da ieri, durante una battuta di caccia incontrata a Sodere di Canzano, erano finiti in una tana di istrice, rimanendo bloccati per tutto questo tempo. I quattro segugi sono stati individuati grazie ai radiocollari di cui erano dotati, ma la ridotta larghezza del cunicolo ne ha impedito l'immediato recupero. Inoltre i vigili del fuoco sono stati impossibilitati ad operare con l'escavatore a causa dell'instabilità del terreno. Durante la notte l'intervento è stato sospeso e ripreso questa mattina. I vigili del fuoco hanno realizzato uno scavo a mano fino ad intercettare un profondo cunicolo da cui sono usciti tutti e quattro i cani da caccia. Sono tutti e quattro salvi, solo per due si è reso necessario il ricorso alle cure del servizio medico veterinario. Questo non è amore. La campagna della Polizia di Stato contro la violenza di genere questa mattina ha fatto tappa all'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara. Gli interventi di un convegno sono stati diffusi in tutte le aule, mentre nel piazzale hanno sostato il camper rosa e le unità cinofile. E' nell'Alberghiero De Cecco che la Questura di Pescara condivide uno dei suoi momenti principali in occasione della giornata internazionale per il contrasto della violenza contro le donne. La Polizia di Stato, da sempre impegnata nella delicata attività di sensibilizzazione della cittadinanza con la campagna permanente Questo non è amore. Incontri formativi e formativi sul tema. E' una campagna che porta avanti sì la Questura di Pescara ma soprattutto il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che per 365 giorni all'anno e non solo per questo giorno ha un obiettivo, la tutela delle fasce deboli in questo caso, la tutela delle donne che hanno subito violenza. E' con loro che dobbiamo essere sempre più vicini. La sala ascolto che noi abbiamo creato in ogni Questura, l'idea di una regola che è l'ammonimento del Questore quando ci sono dei precursori che possano poi portare a fenomeni di disagio, tutto questo crea rete, crea collaborazione tra noi istituzioni, i cittadini e soprattutto in questo caso le donne che hanno bisogno di ascolto e di ausilio. Noi per loro siamo sempre pronti a intervenire anche in una fase preventiva, anche in una fase di un'informazione, anche per essere sentite, ascoltate, per capire il loro disagio. Questo non è amore, è anche il titolo del convegno con interventi del Questore di Pescara, Prefetto Ferdani, autorità locali, Procura della Repubblica, psicologo della Polizia di Stato, specializzato nei crimini informatici e l'associazione Ananche, eseguito in tutte le classi del De Cecco. Il nostro obiettivo è quello di dare ai ragazzi una serie di informazioni perché possano riconoscere tutte le diverse forme di violenza di genere e quindi non solo la violenza fisica ma anche quella psicologica, anche quella economica, anche la violenza che ha per oggetto le parole, quindi il linguaggio. E quindi è molto importante per noi che essi siano in grado di poter decodificare e decostruire gli stereotipi e i pregiudizi ormai troppo radicati. Nel cortile dell'istituto il camper rosa, simbolo ormai da anni della campagna itinerante della Polizia di Stato sul delicato tema della violenza sulle donne, un team di operatori qualificati ha ricevuto gli studenti per discutere con loro del fenomeno e informarli sui comportamenti più utili da adottare nei casi in cui dovessero avere bisogno per se stessi oppure per i loro familiari ed amici. Al piano meno uno del Tribunale di Teramo, da oggi c'è un'esposizione di tutti e 97 i volti delle vittime di femminicidio in Italia. C'è anche il volto di Lorena Paolini, la bruzzese uccise in casa ad Ortona il 18 agosto scorso tra quelli delle 97 donne vittime di femminicidio in Italia, omaggiate e ricordate da oggi dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati al piano meno uno del Tribunale di Teramo. Quest'anno il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati e degli Avvocati di Teramo ha voluto esporre, da oggi 25 novembre fino al 10 dicembre, che ricorre la giornata internazionale dei diritti umani, il volto delle singole vittime di femminicidio che purtroppo si sono verificati quest'anno solo in Italia, sono ben 97 ad oggi e il nostro intento, così come era stato quattro anni fa nel collocare queste scarpette rosse all'interno del Tribunale, è quello di sensibilizzare non solo la comunità ovviamente, ma soprattutto il settore giustizia. Le nostre aule di tribunali, i nostri processi, i nostri procedimenti purtroppo trasudano ancora pregiudizi e stereotipi giudiziari che noi abbiamo il dovere in un qualche modo di evidenziare, di riconoscere e di combattere, perché siamo tutti soggetti che abbiamo comunque l'obbligo, il dovere, ce lo ricorda e ce lo impone la Convenzione di Istanbul di provare a fare quella rivoluzione culturale che serve e che è necessaria affinché episodi di violenza di genere, di femminicidio ma anche solo di violenza vengano perpetrati ancora per tanto tempo. Il nostro obiettivo è appunto quello che magari anche soltanto guardandone uno, fermandosi anche soltanto e passando davanti, ognuno di noi si ricordi purtroppo, quello che dobbiamo combattere. Nell'ambito del premio Borsellino tutto l'anno, questa mattina all'Istituto Tecnico Industriale Alessandrini di Teramo si è svolta una manifestazione con gli studenti e per gli studenti la presenza anche di carabinieri e polizia, il servizio di Dorotea Mazzetta. Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1999. In questi giorni i governi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni e le associazioni di vario genere sono invitate dall'ONU ad organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più devastanti violenze dei diritti umani. Il premio Borsellino tutto l'anno, come di consueto, chiude le proprie attività annuali organizzando la settimana contro la violenza sulle donne. Una delle iniziative si è svolta all'Istituto Tecnico Industriale Alessandrini di Teramo. Oggi è una giornata molto significativa per tutto il sistema educativo e formativo della nostra nazione e oltre. Le nuove linee guida per l'educazione civica, a firma del Ministro Valditara, sottolineano con l'introduzione di un nuovo capitolo educativo e obiettivo strategico da raggiungere, l'importanza del ruolo della scuola nel veicolare comportamenti corretti, un'educazione specifica al rispetto umano e soprattutto della donna. Stamattina gli studenti si sono confrontati anche con le forze dell'ordine, carabiniere Polizia. Sì, stamattina è una mattinata promossa dal Premio Nazionale Paolo Borsellino. Le Onodari e la sua squadra di lavoro stanno permettendo così la strutturazione di mattinate importanti. Nello specifico qui all'Alessandrini abbiamo la presenza della questura di Teramo, del comando dei carabinieri di Alba Adriatica, delegati dal comando di Teramo e la presenza delle ACLI. Dal 21 al 23 novembre scorso nella città di Valparaiso in Cile si è svolto un importante congresso internazionale dedicato alle operazioni di emergenza nel sito patrimonio mondiale organizzato dal corpo dei Vigili del Fuoco locale. A questo congresso tra i relatori provenienti da Università e Denti della Cultura Cileni hanno preso parte due volontari dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, delegazione Valli Teramane con sede a Canzano. L'associazione che dal 2020 ha attivo un nucleo di beni culturali è stata contattata infatti dai Vigili del Fuoco cileni per illustrare il suo modello operativo di intervento attuato sui beni storico-artistici coinvolti in emergenza da calamità naturali o disastri antropici rappresentando quella che è l'esperienza italiana in materia anche in caso di protezione attiva e passiva dei beni culturali in caso di incendio grazie ai più recenti e innovativi sistemi. Al congresso sono intervenuti per l'associazione Valentina Muzzi restauratrice di opere d'arte Teramana e formatore nazionale dell'associazione sul tema della salvaguardia beni culturali in emergenza e Carlos Alberto Cordone che è un architetto di Mociano Sant'Angelo tra i volontari dell'associazione li vedete qui insieme e fondatore tra i fondatori del nucleo beni culturali. A proposito di protezione civile parte il progetto di informazione e formazione in tre scuole di Pescara. Sensibilizzare e formare i giovani alla protezione civile. L'assessore Massimiliano Pignoli presenta la campagna che sta per partire negli istituti comprensivi 2.6 e nel liceo major di Pescara. Entreremo a punta di piedi all'interno dei nostri istituti per il progetto io non rischio che adesso si sposterà dopo la piazza fatta qualche settimana fa a piazza Salotto dove abbiamo informato i nostri concittadini si sposterà all'interno delle scuole. È un momento importante per i nostri ragazzi perché ci saranno delle lezioni dove i nostri volontari, ovviamente preparati, spiegheranno in caso di rischio cosa devono fare e che cosa deve accadere ed è anche un modo per coinvolgere i genitori dei ragazzi eventualmente a entrare nella protezione civile comunale. Questo è un importante messaggio. Visti gli accadimenti degli ultimi tempi come in Spagna o anche in Italia ricoprono un ruolo di fondamentale importanza. Voglio togliermi un sassolino dalle scarpe come si suol dire. La scorsa consiglio comunale un consigliere comunale durante le interrogazioni mi ha attacciato il fatto che la protezione civile non facesse informazioni. Ecco questa è la risposta vera perché l'amministrazione comunale reagisce non con le chiacchiere ma con i fatti. Quando si parte? Si parte nel mese di dicembre e poi si concluderà entro i primi mesi del 2025. Quanti ragazzi pensate di raggiungere? Tanti perché per quanto riguarda i comprensivi saranno coinvolte le quarte e le quinte elementari mentre per quanto riguarda il Major che non ha le elementari saranno coinvolte la prima, la seconda e la terza media. Passaggio ufficiale di consegne questa mattina negli uffici di via Roma a Teramo tra il nuovo presidente dell'Ater Alfredo Grotta e la presidente uscente la dottoressa Maria Ceci. Giovedì mattina ci sarà un incontro per presentare anche nuovi componenti del CDA Francesca Persia e Camillo Graziano. Quelle che ci attendono, dice Grotta, in una nota sono sfide importanti. Il nostro impegno sarà tutto rivolto alla gestione e alla cura del patrimonio dell'Ater che non è solo nel numero degli alloggi ma è soprattutto nelle persone che vivono nelle nostre abitazioni e che pretendono la massima attenzione ed una vicinanza che sia sì professionale ma soprattutto una vicinanza umana. Cambiamo argomento, andiamo a Roseto dove tiene banco la situazione relativa alla nota che l'amministrazione comunale ha inviato alla provincia di Teramo per avere chiarimenti sul doppio incarico di Vanessa Quaranta. Per la presidente del consiglio comunale Gabriella Recchiuti l'ente ha agito secondo le regole. A Roseto non si placano le polemiche dopo la conferenza stampa di sabato organizzata dal gruppo Siamo Roseto in cui ci si lamentava della nota inviata dall'amministrazione comunale alla provincia di Teramo per il doppio incarico di Vanessa Quaranta. A rispondere ora è la maggioranza nella persona della presidente del consiglio comunale Gabriella Recchiuti che conferma come l'atto sia legittimo e nota inviata poi esattamente l'otto ottobre, quindi un mese e mezzo fa. La dottoressa Quaranta è libera nella vita di determinarsi come vuole, di fare politica chiaramente ma fino a quando ricoprerà l'incarico di capo di gabinetto del presidente della provincia di Teramo chiaramente anche lei deve sottostare a una serie di regole che sono previste per i pubblici dipendenti. Semplicemente questo è stato fatto presente a chi di dovere che c'era questo potenziale conflitto di interessi, noi non siamo giudici, non emettiamo sentenze, abbiamo fatto legittimamente delle richieste di delucidazioni, abbiamo chiesto se e quando fosse stata autorizzata a rilasciare delle dichiarazioni, dei comunicati stampa, a presenziare a conferenze stampa appunto in cui esprimeva giudizi anche molto critici rispetto all'operato dell'amministrazione e a queste domande stiamo attendendo risposta. Sono rimasta colpita che si è fatto credere che questa azione avesse qualcosa a che fare con la parità di genere, con una sorta di attività persecutoria nei confronti di una donna lavoratrice. Siamo oggi, ricordiamo il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ecco, il fatto che riguarda la 40 non ha nulla a che fare con la violenza contro le donne o con forme di prevaricazione o di discriminazione verso le donne. Ha a che fare, io credo, con il rispetto delle regole e soprattutto poi con l'etica. L'etica non può mancare in nessuna professione e certamente non può mancare in politica. Dopo l'intitolazione di una via di Teramo al poeta dialettale Walter Cavuti è stata dedicata una serata per ricordarne lo spessore umano e le sue opere. Sott'assice in giappezionete, siete nascosti in alma delle cate, che porto cucinite a tutte le gattucce abbandonate. L'intitolazione di una via cittadina è un ricordo sentito e affettuoso della persona e delle sue opere. Teramo ha reso omaggio al poeta dialettale Walter Cavuti, che ha lasciato una traccia indelebile non solo tra le persone che lo hanno conosciuto e amato. L'ifrone benzerate, la scardozza, li stende sulla tavola a cuorona, che buttisce da fosse mare tozze, da fatica, da cuore e da pulmone. Nato nel centro storico di Teramo il 13 ottobre 1927 in via Paladini, Walter Cavuti sviluppa sin dagli anni giovanili un attaccamento profondo alla città dei suoi tempi, che diventerà fonte di ispirazione per le sue liriche in vernacolo, apprezzate e premiate in molti concorsi di poesie. Nelle sue pubblicazioni Stavan all'imbrubbis del 1984 e All'ombra della Torre del 1996, Cavuti parla di sentimenti e racconta luoghi e personaggi realmente esistiti a Teramo. Una sorta di reporter della vita cittadina e dei suoi attori di ieri e di oggi, un ritrattista che non può fare a meno di restituire fedelmente la memoria di personaggi e di luoghi unici ed indimenticabili descritti in alcuni delle sue poesie. Un legame fortissimo con la sua Teramo che si è tradotto spesso in un impegno civico a sostegno delle cause della comunità. Nel corso della serata che si è svolta alla fratellanza artigiana è stata approfondita la figura del poeta come uomo e cittadino. Ha diventato freddente noi oggi, già stanno su, hai un altro quartiere, leggendo che c'è stata, è un'altra pace. Allora è tutto, con questo servizio chiudiamo questa seconda edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio adesso alle previsioni del tempo con il meto a cura del nostro Marco Di Loreto e per il resto vi auguro una buona serata. Grazie.